Mi chiamo Ballini Beniamino e sono stato, e sono ovviamente, sono un volontario della protezione civile, questo è il mio testato. Sono stato coordinatore per l'emergenza nel mio paese a Dinsago, tra inizio marzo e metà aprile, quando mi sono prosciolto. Proprio perché ero coordinatore, gestivo tutte quelle che potevano essere le criticità e anche le persone che, venute a contatto con il nonno che poi è morto in ospedale per Covid, novantenne, che dispiace assolutamente perché dispiace sempre la perdita di una persona, a prescindere dall'età, Le persone che venivano a contatto, ovviamente, venivano messe in quarantena e di conseguenza venivano gestite, quarantena, arresti domiciliari, venivano gestite dalla protezione civile e dai volontari civili non abilitati. Detto ciò, di tutte queste persone che io qua documenti, ovviamente, di report che ho tenuto, chiaramente perché li passavo a sua volta come report sempre, quindi con dati, passavo dati alle persone competenti istituzionali, tutte queste persone non si sono ammalate, non hanno avuto nulla, niente, nessuna, se non che a marzo tantissime persone avevano l'influenza, l'influenza che poi poteva essere anche Covid, non ho dati su questo, però tante avevano l'influenza, tutti guariti, tutte le persone che tenevamo in considerazione, come capita spesso a tante persone ogni anno, di influenzarsi e poi di guarire, come capita invece a tante persone di avere delle complicazioni e di guarire, ma dopo tanto tempo, altri purtroppo meno fortunati di morire, come capita da sempre, bisogna essere medici per dire queste cose, sono dati di fatto, si nasce, si vive, si muore, non c'è niente che è diverso rispetto agli altri anni e agli altri secoli. Comunque il mio video non era centrato su questo, ma vuole dare un messaggio a tutti gli enti, tra cui anche la protezione civile, tutti gli enti di soccorso, ausiliario alle forze dell'ordine istituzionali, per dire attenzione, perché in questo momento l'unica emergenza è il terrorismo che viene dato, e lo sappiamo, i numeri che vengono falsati dallo Stato a chiunque dica che ci sono tanti ammalati, come mi è capitato di parlare con degli ambulanzieri che dicono, ma noi portiamo un sacco di ammalati, quanti ne porti? 10, 20? Sì, ok, dimmi tutto quello che hanno, il motivo per cui li porti, ma soprattutto quanti escono, e il motivo per cui escono e le patologie che si portano a casa, quindi mi dai dei numeri di entrata e mi dai dei numeri di uscita, se no, cari miei ambulanzieri, non parlate, non parlate perché se no sarete considerati come terroristi, che infondono terrore, alle persone che ovviamente ormai si credono tutto, si bevono tutto. Detto ciò, questa è una breve mia considerazione, proprio per a tutti quanti che la vedranno, dire, non vi fate dire più da chi è in divisa, che soprattutto non rispetta la divisa, chi la divisa che indossa, la sta indossando immotivatamente, e soprattutto, spesso, per far terrore alle persone, non per far riconoscere le persone in quella divisa come tranquillità, come benessere, come sicurezza, ma come terrore, io mi sono dissociato, non voglio più seguire questo gioco, portato avanti per cose che non hanno più senso, guardatevi in giro, se non vi bastano gli occhi, provate a sentire e a guardare con la pancia, sicuramente vedrete che le cose non sono assolutamente, ma assolutamente come vogliono farci credere. Ciao a tutti, libertà.